Liguria ne parla. Ben ritrovati in diretta da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News per tutta la Liguria ne parla, lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione. L'ospite di oggi è Alberto Pandolfo, segretario provinciale del Partito Democratico a Genova e consigliere comunale a Palazzo Tursi. Ben trovato. Buongiorno e ben ritrovati. Un agosto piuttosto movimentato a livello politico nazionale, andando con ordine il vicepremier Salvini che decide di staccare la spina al governo, la convinzione di tornare presto alle urne, le consultazioni al Quirinale e il tentativo di dar vita ad un esecutivo giallorosso, quindi PD e Movimento 5 Stelle per arrivare alla fine della legislatura nel 2023. Lei aveva mai pensato a questo scenario prima della settimana ridosso di Ferragosto? Devo dire no, ma soprattutto quello che mi preoccupa è lo scenario per l'Italia, lo scenario per il nostro paese, per le emergenze che vive sia dal punto di vista economico, della crescita, degli investimenti che in qualche modo i dati degli ultimi giorni confermano che sono dati negativi, quindi è chiaro che dopo la crisi nella quale ci ha gettato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, che tanto non lo ha fatto il ministro dell'Interno, ma il leader della Lega, se ancora leader si può definire, visto l'inciampo nel quale ha gettato il paese, ma nel quale ha gettato anche evidentemente la sua compagine di governo, bontà sua a questo punto dico, e che ha dato conseguenze fortemente negative per il paese, tanto da generare una crisi in pieno agosto, non perché i parlamentari fossero in ferie, perché molto spesso mentre lui trasmetteva dal papete i parlamentari erano al lavoro, ma lungi da me fare una difesa dei parlamentari, piuttosto la difesa delle istituzioni e di quei luoghi dove è giusto dover discutere e confrontarsi. Invece la richiesta di pieni poteri del leader della Lega ha certamente mosso nel paese e mosso nelle coscienze degli italiani una reazione che fortunatamente oggi si manifesta anche con un indebolimento della Lega stessa. Cos'è cambiato all'interno del Partito Democratico? Perché inizialmente l'unico forse era stato Matteo Renzi a dire facciamo subito un governo per arrivare a fine legislatura, per evitare l'aumento dell'IVA e salvare il paese. La linea del segretario Zingaretti e di tanti altri del Partito Democratico sembrava mai un accordo col Movimento 5 Stelle. Questo mai però via via si è sempre più sbiadito per arrivare ad un accordo condiviso da quasi tutto il Partito Democratico, fatta eccezione calenda e qualche altro parlamentare e qualche altro esponente che ha tutt'oggi dei dubbi. Dov'è che c'è stato il cambio di passo e il cambio di pensiero? Certamente le dicevo il fatto che si siano susseguite tante azioni a danno del Paese che hanno portato i dati negativi che registriamo sotto tanti aspetti ma ricordo il decreto sicurezza o piuttosto il fatto, i decreti sicurezza o piuttosto il fatto che non si sia lavorato seriamente per la gestione della sicurezza urbana nei nostri centri urbani o ancora le mancate spiegazioni sui 49 milioni della Lega Nord sul Russia Gate, mancanze che sono avvenute in Parlamento quindi gravi rispetto al rispetto, scusi il gioco di parole, delle istituzioni e alla necessaria azione che ci deve essere da parte dei ministri in questo caso del ministro dell'Interno nei confronti del Parlamento e quindi la necessità di reagire a questa deriva e alla richiesta ultima di pieni poteri il Partito Democratico aveva già intrapreso un percorso di alternativa per l'Italia un percorso su questioni concrete che partivano dal tema del lavoro degli investimenti per le imprese, dal tema della formazione e sappiamo che tra pochi giorni inizia la scuola e sappiamo il delirio che ha provocato anche questa crisi di governo proprio nella fase estiva proprio per il mondo scolastico della scuola che parte diciamo dalla gestione del corpo docente fino ai temi di risanamento di edilizia scolastica ma su questo poi tornerò anche parlando del nostro comune quindi le dicevo l'esigenza di serietà del Partito Democratico che non è mai mancata, prima quella di impostare un'alternativa per il Paese e poi quella di pensare qual è la soluzione migliore per immaginare di poter dare comunque un governo al nostro Paese quindi uno sforzo ulteriore e guardate la strada è stretta ed insalita da questo punto di vista anche in questa fase in cui si ragiona di un accordo di governo ma penso che sia giusto provarci è chiaro che occorre riscoprire anche il ruolo del servizio in politica ho sentito troppo spesso parlare di chi salva le poltrone ma di che cosa stiamo parlando? insomma il Partito Democratico ritrova il servizio nella politica quindi anche l'azione che ha fatto ieri Dario Franceschini che è stata sposata naturalmente dal segretario Zingaretti di rinunciare al ruolo del vice premier incarna esattamente questa scelta ricordo proprio quando nel lontano 2006 Beppe Grillo diceva che i parlamentari sono dei nostri dipendenti io preferirei parlare non di dipendenti non di poltronisti ma di civil servant così come fanno in Inghilterra di chi mette a servizio la propria competenza di chi mette a servizio la propria professionalità il proprio senso civico a favore della collettività così il Partito Democratico ha deciso di impostare il proprio impegno per il Paese e se il segretario Pandolfo arriva a citare Beppe Grillo vuol dire che l'accordo è già nell'aria tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ma io le vorrei chiedere anche poi una cosa fondamentale come riuscire a spiegare tutti questi passaggi ad un elettore medio del PD che magari oggi si sente disorientato starà pensando ma fino a ieri si diceva che il Movimento 5 Stelle erano gli incapaci erano alla guida del peggior governo di sempre e oggi diventano un affidabile partner di governo basta solo la responsabilità secondo lei per giustificare questo tentativo di portare avanti la legislatura o capisce anche la visione ad esempio di Calenda che dice così magari oggi mettiamo all'angolo Salvini ma Salvini, prendo le parole di Calenda è un bullo che va sconfitto e sgonfiato alle elezioni non con un accordo col Movimento è chiaro che non esistono il bianco e il nero quindi in politica ci sono alcuni elementi che devono essere valutati anche di volta in volta a seconda delle condizioni che si presentano è chiaro che negli anni non si possono negare le azioni un po' squadriste che sono state fatte ai danni del PD proprio dagli esponenti del Movimento 5 Stelle sia nei comportamenti che nel sostegno di alcune tesi che invece sono diventate oggi la base di un confronto programmatico io penso che da questo momento si debba trarre un insegnamento sia per il Partito Democratico e per il Movimento 5 Stelle intanto che è utile mantenere il confronto politico sempre sui contenuti e non trascendere rispetto ai giudizi sulle persone e appunto le valutazioni devono rimanere sul piano del confronto politico perché è questo quello che interessa le persone le persone interessa capire se le infrastrutture si realizzano nella nostra Liguria oppure se non si realizzano se la lotta al discesso idrogeologico si combatte o non si combatte se la lotta all'evasione fiscale si combatte o non si combatte se la lotta ad esempio alle slot machine e a tutto il panorama del gioco d'azzardo lo si combatte o non lo si combatte ecco queste cose penso siano terreni di scambio e di confronto politico sul quale dover mantenere il dibattito se non è così è molto più complicato poter trovare una sintesi quindi da questo dico un insegnamento sia per il Partito Democratico che per il Movimento 5 Stelle a pensare da una parte a determinati comportamenti e dall'altra anche rispetto a mettere in discussione alcuni contenuti per trovare una sintesi utile al paese ora andiamo ad aggiornarci su cosa succede in Liguria 100 secondi di giornale radio e ritorniamo a tutta la Liguria ne parla insieme ad Alberto Pandolfo nuovi locali nuovi piatti ma i sapori di una volta e le tradizioni di sempre adesso c'è una nuova locanda antichi sapori tradizione toscana e ligure ingredienti di prima scelta piatti di pesce fuori menu preparati ogni sera dal nostro chef vasto assortimento di vini e rum locale climatizzato giardino e sala bimbi aperti sia a pranzo che a cena dal martedì alla domenica locanda antichi sapori via casa regis 52 rosso a Genova locanda antichisapori.it l'evento mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi solo marchi di qualità artigianale garantita sabato 7 settembre e a Ceriale Savona lungomare Armando Diaz orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano il vero e unico marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte gli ambulanti di Forte dei Marmi.it questa estate Dolce Dormire e i divani presentano saldi esplosivi reti motorizzate materassi tutto fino al 50% di sconto visita il nuovo showroom 300 metri quadri di soli divani a San Martino tutto a tasso zero vai col finale esplosivo scoppio ridicolo eh ma tanto in radio le esplosioni non rendono Dolce Dormire la vera qualità dolcedormiregenova.com camminare sulle montagne Liguri dove gli appennini incontrano il mare puoi farlo alla Mare Monti la marcia non competitiva dove mare, monti e cielo si abbracciano ti aspettiamo per la 35esima edizione ad Arenzano il 7-8 settembre Baboleo News cosa succede in Liguria? motociclista travolto e ucciso sabato sera in via Nizza nel quartiere genovese di Albaro l'incidente è stato ripreso interamente dalla telecamera dell'auto di un passante che è subito diventato un super testimone nelle immagini si vede il SUV guidato da Arlindo Rodriguez 54enne badante di origini peruviane arrivare a forte velocità e colpire fatalmente lo scooter di Mario Angelucci 49enne corriere di San Fruttuoso Rodriguez risultato con un valore di alcol nel sangue quattro volte superiore al limite di legge è stato arrestato per omicidio stradale nuovo incendio nella notte sulle alture di Cogoleto nel ponente genovese a bruciare le aree boschive nella zona di via della Madonnina dove già cinque mesi fa un incendio devastò per giorni l'area l'allarme per il rogo è scattato questa notte intorno alle due le fiamme sono state domate in quasi tre ore dai vigili del fuoco dopo il pesante flop di ieri sera a Reggio Emilia la Sampdoria cerca di correre a ripari nell'ultimo giorno utile per il calcio mercato ultimate le visite mediche di Seculin come viceaudero in arrivo a Genova anche l'esterno Rigoni dallo Zenit e il giovane Vignato dal Chievo Verona sul fronte Genoa dopo la bella vittoria di ieri sera contro la Fiorentina si lavora per lo scambio in attacco con il Bologna tra Favilli e Destro Babboleo News 92 e 9 tutta la Liguria ne parla ben ritrovati da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News per tutta la Liguria ne parla lo spazio di approfondimento sulla politica e l'attualità nella nostra regione siamo in compagnia di Alberto Pandolfo e riprendiamo la nostra chiacchierata che si è focalizzata nella prima parte della trasmissione sui temi nazionali sulle ripercussioni che tutto questo scenario nazionale potrà avere a livello locale da parte di Alice Salvatore ad esempio capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle è arrivata un'apertura che è abbastanza insolita anche per la storia recente da Alice Salvatore che è sempre stata sulle barricate rispetto al Partito Democratico invece è arrivata un'apertura al dialogo per le prossime regionali ci sarà secondo lei e ci saranno i margini per un eventuale dialogo o il piano locale come si dice spesso rimane separato dal piano nazionale beh io credo che sia troppo presto proprio oggi parlare di eventuali ipotesi per alleanze in regione Liguria è chiaro che tutto dipenderà da ciò che accade a Roma e poi in politica difficile come dire bianco e nero ma è difficile anche dire mai lo abbiamo visto in questi giorni siamo stati più o meno travolti nelle nostre chat sui social network da questi spezzoni di video prima quello di Salvini che diceva mai con il Movimento 5 Stelle poi quello di Di Maio che diceva mai con il partito di Bibiano addirittura sono questi i metri il metro che dobbiamo cambiare il tema del confronto politico non si può stravolgere con delle accuse da parte tra l'altro di un ministro della Repubblica e capo politico nei confronti di quello che poi potrebbe diventare un potenziale compagno di strada come il partito democratico e allo stesso modo è giusto fare autocritica anche da parte del partito democratico più volte sono arrivati messaggi capaci esatto quindi è chiaro che questo purtroppo degrado del dibattito politico fa sì che poi ci siano dei messaggi sì semplici sì percepibili ma drammaticamente falsi così come è avvenuto nei tanti mesi in cui abbiamo visto al governo Matteo Salvini e il governo uscente tutto che ha dato dei messaggi certamente semplici ma non risolutivi delle situazioni e delle questioni che sono più urgenti per il paese una su tutte il tema dell'immigrazione aggiungo un po' di pepe a questi eventuali accordi questo clima da volemmo se bene nel senso che se si arrivasse a un governo un governo giallo-rosso conte bis ufficiale quindi c'è un accordo PD e Movimento 5 Stelle a livello nazionale si inizia a parlarne anche a livello locale quindi per le regionali io pongo subito un tema la gronda il Movimento 5 Stelle locale sempre Alice Salvatore cito perché è stata ospite in radio da noi ha ripetuto più volte la sua quanto si senta favorevole con il parere del MIT che ha bocciato la gronda come la conosciamo il progetto definitivo che doveva essere cantierizzato già da diversi mesi e quanto invece voglia puntare su una cosiddetta mini gronda un progetto alternativo il Partito Democratico invece su questo tema non ci senta a meno che non abbia cambiato idea la gronda così com'è va fatta va fatta anche il prima possibile non parliamo di mini gronda e altre alternative posso dirle siamo già drammaticamente in ritardo rispetto alla vicenda della gronda quindi è chiaro che questo non può tornare un elemento che non può tornare in discussione bisogna rispettare la continuità amministrativa quindi le decisioni che sono già state prese e attuate e non dover tornare indietro il ministro Toninelli ha dato una pessima dimostrazione e allo stesso modo la data anche l'alleato leghista che esprimeva ben due sottosegretari genovesi uno di nascita l'altro non solo di nascita ma anche di attività politica che è Edoardo Rixi è chiaro che non tutto ciò è rimasto fermo per 14 mesi drammaticamente fermo per 14 mesi io le dico questo è un tema di contraddizione evidente tra anche tra il Movimento 5 Stelle il Partito Democratico e non lo nego non lo nego al punto che sabato convocato a Roma insieme ai segretari delle città metropolitane ai sindaci i presidenti della regione tanti sindaci sono intervenuti da nord a sud Leo Luca Orlando Giorgio Gori tanti esponenti del Partito Democratico miei colleghi segretari hanno messo al centro questo tema delle infrastrutture io personalmente ho fatto non solo ho messo al centro il tema delle infrastrutture e dello sviluppo ma nello specifico il tema della gronda perché so che ritornando a casa l'ho detto sarebbe stato il primo tema sul quale mi sarebbe stato chiesto conto allora è chiaro che io ho rimesso questa vicenda nelle mani del Partito Democratico nazionale le dico di più come partito locale già avevamo previsto che nel piano per l'Italia nel cosiddetto piano per l'Italia si facesse una tappa sulle infrastrutture a Genova era prevista per la metà di ottobre non so che cosa ne sarà rispetto all'attività politica che avremo in campo ma questo non distoglie l'attenzione da parte del PD rispetto al tema delle infrastrutture rivendicando le scelte che sono state fatte in passato in cui si è pensato progettato e finanziato un'opera che deve essere continuare ad essere vitale per il futuro e lo sviluppo della nostra città e della nostra Liguria quindi è chiaro che su quello non ci possono essere arretramenti e ci dovrà essere forzatamente una sintesi su un progetto che deve continuare a rimanere valido ma come quello ce ne sono altri che ahimè devono vedere la luce per la città di Genova immagino al tema del trasporto pubblico sul quale si è cambiato idea un'altra volta e sul quale si sono chiesti ulteriori finanziamenti a Roma viva Dio speriamo che questi finanziamenti possano arrivare per risolvere a partire proprio dalla Val Bisagno il tema della mobilità e poi non dimentichiamo che la Liguria in questi quasi cinque anni di governo Toti ha visto un blocco totale rispetto a ciò che poteva essere pensato progettato e finanziato rispetto alle infrastrutture ci sono ancora pezzi col binario unico anche nell'interlocuzione con le grandi società di trasporto autostrade e ferrovie abbiamo visto quali sono state le mancanze di queste amministrazioni da una parte l'amministrazione regionale che lo abbiamo sentito tutti il 16 di agosto ha avuto la nostra Liguria un danno per l'incapacità dell'amministrazione regionale di interloquire con le ferrovie dello Stato tanto che c'è stata la soppressione di ben 23 treni nella nostra Liguria nel momento massimo in cui c'è l'accoglienza turistica che è il periodo di ferragosto e dall'altra parte l'incapacità di dialogare con autostrade drammaticamente vediamo quali sono anche i danni derivanti da altri viadotti quello per esempio giusto in Val Bisagno nel quartiere di Staglieno delle gavette e anche lì autostrade deve dare delle spiegazioni importanti soprattutto rispetto alla tragedia che è avvenuta il 14 di agosto dello scorso anno nella città di Genova le manutenzioni del velino e del Bisagno e poi sul binario unica ricordato forse a livello di cronaca tutti ricorderanno nel 2014 il treno deragliato ad Andorra con la regione tagliata in due da lì tanti annunci e poi il raddoppio non c'è mai stato le chiedo provando a fare l'avvocato del diavolo grillino sul tema gronda se con il movimento 5 stelle si arrivasse a una discussione di questo tipo siamo tutti d'accordo che l'infrastruttura serva però la gronda abbiamo iniziato a discuterne a fine anni 80 il mondo è cambiato in questi 30 anni ci prendiamo una scadenza con un ultimatum che va tanto di moda come parola ultimatum per fare le cose ma rivediamo il progetto perché magari va cambiato in corsa quello che una volta era opportuno e oggi può esserlo meno una trattativa di questo di questo tenore può essere imbastita o avete paura che le lungaggini che il passato ci insegna per arrivare già a questo progetto diventino talmente tanto ancora più lunghe che poi non si vedrebbe nessuna opera è chiaro che un progetto che è in fase esecutiva che ha superato anche la conferenza dei servizi se viene messo in discussione in qualche parte preponderante rischia di non avere più finanziamento e quindi forza per essere realizzato dopodiché che il ritardo si continua a moltiplicare anche per le inadempienze del governo giallo-verde che si è appena concluso hanno bisogno di un'attualizzazione molto spesso quindi rispetto al percorso di attualizzazione rispetto alle emergenze alle esigenze che nel frattempo si sono diversificate anche in un territorio come quello Ligure del nord-ovest segnato dal crollo del ponte Morandi è chiaro che quello è un percorso ma che deve vedere tutte le infrastrutture coinvolte non solo la gronda ma anche ciò che ancora si attende il nodo ferroviario altre infrastrutture che hanno ovviamente carattere diverso il nodo ferroviario è appunto di ferrovia la gronda è autostradale però è chiaro che il sistema dei trasporti deve poter contare su una rete capace di soddisfare la principale impresa della nostra Liguria e della nostra città che è il porto di Genova e le capacità di movimento di chi si sposta dalla nostra città e per la nostra città se noi non abbiamo movimento e viviamo in una situazione di isolamento rischiamo di perdere grandi opportunità per il futuro della nostra Liguria quindi anche per il futuro dei giovani che invece magari in Liguria proprio per il clima positivo per le opportunità positive devono rinunciare a venire siamo andati lunghissimi quindi abbiamo ancora poco tempo rimandiamo un'altra volta i temi di Palazzo Tursi i temi comunali della ripresa dei lavori vorrei concludere però con la festa dell'unità l'anno scorso sappiamo c'è stata la tragedia del Ponte Morandi e quindi non si è festeggiato potremmo dire in questo modo qualcuno si chiederà ma non c'è più la festa dell'unità in piazza caricamento quella storica la risposta è no ma dove si può trovare la versione 2019 della festa dell'unità di Genova la versione della festa sarà una festa itinerante già come l'avevamo pensato lo scorso anno quando di festa non si è trattato perché la tragedia ha appunto travolto la città ma abbiamo parlato semplicemente di unità per Genova lo scorso anno quest'anno torna festa e torna ad animare due luoghi importanti della nostra città il quartiere di San Fruttuoso quindi il 6 il 7 e l'8 settembre saremo in piazza Martinez a San Fruttuoso e poi il 20 21 e 22 settembre saremo in piazza scesa a Pra sono due momenti dicevo sarà una staffetta lunga sei giorni che comincerà in Val Bisagno e poi proseguirà nel Ponente l'anno scorso siamo stati invece in Val Polcevera perché abbiamo ritenuto di dover stare vicini già l'avevamo pensata a Ponte Decimo ma a maggior ragione siamo stati vicini dal quartiere di San Pierdarena di Certosa di Rivarolo e fino a Ponte Decimo alle persone che avevano maggiore difficoltà con un servizio concreto reale i volontari della festa lo scorso anno sono diventati i cosiddetti facchini democratici hanno aiutato le persone più in difficoltà a fare i traslochi dalle nuove abitazioni che le erano state assegnate quest'anno invece torneremo con qualcosa di un po' più animato con l'occasione di poter avere sul piazza Martinez che è una piazza positivamente riqualificata dall'azione che ha fatto il municipio Bassavalbisagno proprio lì dove ci sarà sia street food e dibattito quindi il dibattito politico sarà accompagnato da alcuni ospiti nazionali naturalmente con gli impegni politici permettendo ci saranno Graziano Del Rio Andrea Orlando Roberta Pinotti e poi avremo molti responsabili dei nostri temi dalla responsabile Ambiente Chiara Braga poi avremo una deputata che si è occupata dei temi della violenza di genere che è Alessia Morani e ancora parleremo di immigrazione con Matteo Orfini insomma il programma è denso ma ovviamente aspettiamo tutti voi nell'arena di piazza Martinez dove ci sarà questa festa che poi proseguirà invece dopo un paio di settimane quindi 20, 21 e 22 in piazza scesa e allo stesso modo vedremo quali saranno le evoluzioni politiche quindi il dibattito continuerà e metteremo al centro i temi del futuro della nostra città quindi parleremo di mobilità parleremo di economia parleremo di scuola insomma metteremo al centro i temi sui quali si traguarda la nostra città e la nostra Liguria verso gli obiettivi che vogliamo raggiungere per il bene e l'interesse dei cittadini grazie per essere stato con noi ad Alberto Pandolfo tutta la Liguria ne parla torna la prossima settimana di nuovo il mercoledì e viva c'era una volta l'intolleranza all'attività